Ginto Nick Games Nonostante i limiti di budget, di tempo e di personale a creare piccoli grandi giochi Che però sono stati, come dire, sono passati inosservati ai più Motivo per cui ve li voglio portare oggi Come sempre per questo tipo di video, tutte le immagini che vedrete dopo, così come la recensione, è completamente spoiler free Così da non rovinarvi l'esperienza, perché appunto ve li sto consigliando Dato che stavolta in più sono giochi italiani e che non sono andato a recuperare in Timbuktu e Congo Posso darvi il link Amazon per acquistarvi se siete interessati Quindi in descrizione troverete tutti i link Amazon per tutto ciò che vi presenta Anche per le altre console, non solo PlayStation Il primo gioco di oggi è un gioco che ormai è diventato sempre più un cult tra collezionisti e videogiocatori in generale Ed è The Town of Light La prima fatica del team fiorentino LKA Il gioco si presenta come una sorta di walking simulator condite da tinte horror L'horror che però troviamo non è dato da mostri deformi o jumpscare vari Ma da qualcosa di forse peggiore, dalla realtà L'ambitazione scelta dagli sviluppatori è l'ex manicomio di Volterra Fondato nel 1897 è rimasto operativo fino al 1978 In occasione dell'entrata in vigore della legge Basaglia che ne prevedeva la chiusura Fino ad allora questo luogo è stato casa di migliaia di internati Come la storia ci insegna questi non erano luoghi felici Al contrario, erano la stregua di carceri in cui i pazienti venivano curati A suon di soprusi, violenze, sedativi ed elettroshock Ed è esattamente questo che vuole raccontare il gioco Per farlo utilizzare René Un ex paziente che si reca nuovamente nel manicomio, ora abbandonato Per ricordare e ricostruire gli anni della sua permanenza Tra corridoi bui, muri scrostati, inquietanti sedi a rotelle e macchinari medici abbandonati Ci faremmo largo tra i dolorosi ricordi della protagonista L'orrore, oltre ovviamente alle ambientazioni inquietanti del gioco Proviene dalle memorie di René Dalle violenze e industizie subite E dal sapere che, nonostante questo, sia un personaggio di fantasia Queste cose sono realmente accadute all'interno di quelle mura The Town of Light, come anticipato in apertura dal punto di vista del mero gameplay Si presenta come un classico walking simulator Piano dopo piano, stanza dopo stanza Ci avventuriamo all'interno della struttura Senza mai incontrare nessun reale pericolo d'ostacolo Solo qualche semplicissimo enigma ambientale Tecnicamente il gioco è brutto Non c'è purtroppo molto da dire La sua natura profondamente indie E soprattutto il budget risicato Si fanno sentire ad ogni cutscene e a ogni pop-in degli elementi degli scenari Molto evidente soprattutto nelle sezioni all'aperto Riesce comunque a restituire un ottimo colpo d'occhio e senso di atmosfera Grazie ad una riproduzione fedele degli ambienti Ad un sonoro di livello nettamente superiore La durata si attesta sulle tre ore circa L'avere diversi snodi narrativi dovuti ad alcune scelte da compiere nella seconda metà di gioco Però porta tranquillamente a fare un ulteriore run per scoprire i vari risvolti Come detto in apertura è diventato sempre più un cult soprattutto tra i collezionisti Con le coppie fisiche per PS4 che ormai costano addirittura 60 euro per le coppie italiane Quindi il doppio rispetto al prezzo di uscita Va meglio però se lo volete per Xbox o Switch Comunque vi ricordo che ci sono i link in descrizione Rimaniamo in casa LKA con il loro secondo gioco Marta is Dead Probabilmente il più famoso che vi presento oggi Infatti i forti del successo, dei feedback e del maggiore budget ricevuto con The Town of Light Hanno fatto un qualcosa di bigger and better In Marta is Dead tornano le ambientazioni toscane Così come le tinte horror e thriller I passi avanti fatti dai ragazzi di LKA Specialmente su un comparto tecnico sono incredibili Il gioco è stato reso anche famoso per così dire dalla polemica riguardante alcune scene censurate da Sony Scene poi comunque reintrodotte e rese semplicemente schippabili Se inizialmente visto anche la media delle censure avute negli altri giochi Pensavo si trattassero di solite, per così dire solite, scene di nudo o di abusi Mi sono dovuto ricredere Quelle che vengono messe in scena sono effettivamente scene di mutilazione, sventramenti e autolesionismo di forte impatto Se siete deboli di stomaco preparatevi a schippare Toscana, 1944 Interpretiamo Giulia, figlia di un generale tedesco, Erik E di Irene, una donna italiana La ragazza è appassionata di fotografia E durante il giro mattutino della raccolta dei rullini delle macchine fotografiche Lasciate durante la notte attorno al lago per fotografare fauna e flora Trova un cadavere in acqua Il cadavere è di Marta Sua sorella gemella sordomuta, nonché la figlia prediletta per tutta la famiglia Questa però ha addosso i suoi vestiti E quindi i genitori, accorsi poco dopo, la scambiano per la sorella Giulia decide quindi di prendere il posto di Marta come figlia preferita Con ovviamente l'accortezza di fingersi sorda Nel contempo dobbiamo anche cercare di capire che cosa sia successo a nostra sorella E chi sia stata ad ucciderla Perché sì, Marta è stata uccisa Da qui parte una storia cupa, triste ed estremamente violenta Che va a fondere realtà, leggende e fantasia Toccando in un modo senza precedenti temi quali la malattia mentale Le mille formi che questa può prendere Tocco di classe il finale Finale che inizialmente mi aveva fatto abbastanza arrabbiare In quanto l'ho visto un po' come facile paraculo Ma che effettivamente lasciato sedimentare qualche giorno Ho dovuto ampiamente rivalutare in positivo Mi fermo qui per evitare qualsiasi tipo di spoiler Dato che è l'elemento cardine di tutto il gioco Il titolo anche in questo caso è un walking sim a tinte horror Siamo chiamati a girare per la mappa di gioco Che comprende la casa di campagna della famiglia K Il bosco circostante e il lago vicino alla tenuta A raccogliere indizie e compiere brevi missioni A nostra disposizione abbiamo anche una macchina fotografica Con diversi accessori con cui è possibile fare fotografie La cura riposta in questo accessorio è sorprendente Con diversi tipi di rullino, obiettivi e accessori Oltre che la possibilità di modificare i settaggi dell'obiettivo Per poter scattare foto in varie condizioni climatiche e di illuminazione Sonore e doppiaggio sono di ottimo livello Non fanno altro che enfatizzare tutto il dolore e la drammaticità del gioco Unica accortezza da tenere per giocarlo Sono le scene di violenza fisica e psicologica Perché di questo abbonda A differenza del loro primo titolo Mart is Dead è tranquillamente reperibile Praticamente ovunque e a un prezzo molto più basso Quindi ovunque lo vogliate recuperare c'è senza problemi Ma cambiamo registro e completamente anche zona Andiamo a Bologna dai Trinity Team con il loro primo gioco Che ha colpito nei feels un sacco di persone Infatti loro sono i responsabili di Bud Spencer e Terence Hill Slap and Beans Slap and Beans è una piccola grande lettera d'amore all'iconico duo e alle loro pellicole Ogni pixel è una citazione ad una scena, una gag, un personaggio O un iconico dialogo dei film di Bud Spencer e Terence Hill Per questo motivo è un prodotto difficile da valutare Da un lato abbiamo tutto quello che un fan potrebbe desiderare Dall'altro un gioco che se analizzato dal mero punto di vista tecnico risulta essere solamente buono Il nostro duo preferito sta girando, come al solito, un film western Una volta finite le riprese scoprono che la bella assistente con tutti i loro soldi viene rapita da una misteriosa banda Che fa capo al... capo Partono quindi a salvare la ragazza e i loro soldi Avventura che li porterà in location varie ed eventuali, tutte ispirate ai film Fino a salvare il mondo da un malefico piano Come? A schiaffoni, che domande La storia è carina e funzionale e riesce a strappare ben più di un sorriso per tutte le battute storiche E inaspettati easter egg Don Matteo che passa non curante in bici nel mezzo di una scazzottata mi ha fatto per esempio morire Il gioco è un picchiaduro a scorrimento laterale Che strizza l'occhio ai vecchi classici 16-bit come Final Fight, Street of Rage e via dicendo Non riesce però a raggiungere lo stesso livello qualitativo e si presenta come un gioco solo... ok A causa di alcune scelte ben discutibili e bilanciamenti sbagliati Se da un lato abbiamo un gameplay immediato e divertente con diverse mosse e combo per entrambi i personaggi Dall'altro abbiamo alcune tecniche decisamente troppo potenti Spallata di badi in primis Solo tre tipologie di nemici ripetute per tutto il gioco Minigiochi di inseguimenti carini ma che a volte ti lanciano gli ostacoli così velocemente da non poterli schivare E un boss finale veramente cheap perché se ti colpisci una volta ti inchioda in un loop di colpi che ti uccide Almeno a difficoltà difficile Per quanto riguarda il lato grafico, è sonoro ed applausi Con una pixel art tra le più belle che si siano viste ad oggi e le musiche originali dei film La longevità da buon indie è scarsa con una storia completabile in 2-3 ore circa Come detto inizialmente è un prodotto difficile da valutare Se siete fan dei personaggi di Carlo Pedersoli e Mario Girotti È un prodotto imprescindibile che vi farà innamorare Se non siete loro fan è ovviamente solo un buon beat em up Senza però grande appeal Qui però vi devo dare una cattiva notizia La versione fisica non è mai arrivata in Italia Infatti questa è la versione tedesca ed è reperibile solo su Amazon tedesco Vi lascio comunque il link sotto Non preoccupatevi e come comprare da Amazon normale non ci saranno problemi Il seguito però che è uscito adesso, piccola ciliegina sulla torta, è disponibile anche in Italia Proseguiamo nuovamente con un altro walking simulator Apparentemente in Italia ci piace un sacco raccontare delle belle storie camminando però E proseguiamo con Nero Primo gioco dei, anche qua, primo gioco dei Storm in a T-Cup Team Romano Nero è una produzione caratterizzata da luci e ombre Esattamente come le ambientazioni del titolo Quello che andiamo a vivere è un viaggio nel dolore Nei sensi di colpa di una coppia di genitori che perdono un figlio La storia è quasi interamente narrata attraverso scritte fluttuanti nell'ambientazione di gioco E, come è facile intuire, si tratta di una storia pesante, dolorosa ed estremamente triste Si tratta però del principale punto di forza di questo gioco L'altro punto di forza sono le ambientazioni, molto suggestive e quasi oniriche C'è questo continuo contrasto di zone scure con fonti di luce estremamente appariscente Che rende tutto visibilmente accattivante e memorabile Passiamo da caverne illuminate da funghi blu luminescenti a foresti incantate Il cui cielo è pieno di meduse fluttuanti Il colpo d'occhio è sicuramente sempre l'effetto Il gameplay, d'altro canto, è quello di un classico walking simulator, come ne abbiamo già visti Inframmezzato da qualche semplice enigma Le lunghe camminate verranno interrotti infatti da semplici puzzle Da risolvere grazie alla nostra abilità di lanciare le sfer di luce Il punto debole della produzione però è il comparto tecnico Se il colpo d'occhio colpisce per la sua bellezza Se ci si sofferma ad osservare meglio le texture e i poligoni Si trovano modelli in bassa definizione, spigolosi e poco curati Spesso le ambientazioni sono troppo scure e i puzzle molto facili O molto poco intuitivi a seconda dei casi Infine personalmente ho sperimentato un qualche crash di troppo del gioco Di cui uno mi ha corrotto il salvataggio Però fortunatamente la durata è estremamente bassa Circa un paio d'ore Così non è stato un grosso problema ricominciarlo E portarlo a questo punto a termine Sì, ha qualche grosso problema Ma è comunque una storia che vale veramente la pena vivere Qui problemino nel senso che almeno se siete utenti PlayStation Infatti è stato rimosso da tutti gli store digitali Quindi l'unico modo per averlo su PlayStation, su PS4 È comprarlo fisico La tiratura, essendo un titolo soedesco, non è esattamente delle più ampie E quindi non è necessariamente costoso Ma farete un po' fatica a trovarlo Per le altre console andate tranquilli Cioè digitale, costa 10 euro Però anche qua, link in descrizione per qualsiasi cosa vi serve E come per gli LKA vediamo il secondo gioco Degli Stormina Teakup del nostro team romano Che è Close to the Sun Close to the Sun, esattamente come Marta Is Dead degli LKA Mostra i passi da gigante fatti dal team romano Nel gioco interpretiamo Rose Archer Una giornalista che si reca sulla Helios Dopo aver ricevuto una strana lettera dalla sorella Ada Imbarcatasi mesi prima La Helios è una gigantesca nave creata niente di meno Che da Nikola Tesla per raccogliere tutte le più grandi menti del mondo Affinché queste potessero portare avanti i loro studi e le loro creazioni senza limiti e restrizioni Una volta arrivata sul posto però trovo una nave fantasma piena di cadaveri Persone impazzite e segreti che è meglio non svelare Vi ricorda qualcosa? Giusto, perché è esattamente lo stesso incipiti di Bioshock Con la sua ormai famosissima e amatissima Rapture Le similitudini però non si fermano qui Lo stile è Art Deco esattamente come quello dato dalla città sommersa dei ragazzi di Rational Games Intendiamoci, non che sia un male Anzi, l'ambientazione, la storia, l'atmosfera e la direzione artistica sono i punti di forza del gioco Certi scorci e colpi d'occhio sono veramente d'effetto e ben realizzati Teatri dell'opera, enormi saloni, la gigantesca sala macchina e persino la serra Sono sicuramente ambientazioni che vi ricorderete per un bel po' Il gameplay, anche in questo caso, è un walking simulator Il nostro compito sarà quello di attraversare la nave risolvendo qualche semplice enigma Raccogliendo collezionabili, oggetti che svelano la trama e il retroscena del gioco e della Helios E risolvendo il mistero più grande che circonda tutta la nave fantasma Più tempo ci si prende per esplorare, leggere e ascoltare E più si viene ricompensati con approfondimenti interessanti della storia e della lore Girovagando per la mappa di gioco spesso ci si imbatti in alcuni ricordi o impronte della vita precedente Degli avvenimenti passati degli abitanti della nave Questi saranno rappresentati come dei profili dorati incorporei presenti in determinati posti e situazioni Cosa che mi ha ricordato molto Everybody's Gone to the Rapture, walking simulato dai Chinese Room Ma il gioco ha anche spiccate tinte horror Gli scricchioli, le ombre e l'atmosfera desolata riescono a mantenere alta la tensione e il senso di pericolo Che sfociano in alcuni jumpscare e inseguimenti nei quali dobbiamo sfuggire al nostro inseguitore attraverso le varie parti della nave Queste sono state le parti che personalmente mi sono piaciute di meno In cui vengono spesso alla luce alcune problematiche tecniche Il tutto risulta abbastanza legnoso e fin toppo scriptato Ho riscontrato anche una problematica durante la speedrun e relativo trofeo Nella quale se si è troppo bravi e si distanzia troppo il nostro inseguitore Questo risponde direttamente alle nostre spalle uccidendoci all'istante Però, vabbè, evidentemente sono troppo bravo io, modestamente Per quanto riguarda il lato tecnico, vera duibalezza di nero I passi avanti sono veramente enormi La direzione artistica è di altissimo livello e non c'è una singola ambientazione brutta da vedere La durata è piuttosto scarsa ma in linea con il genere Con una storia completabile in 3-4 ore a seconda di quanto tempo si perde ad esplorare la Helios E a leggere i file di approfondimento In generale è un gioco che ho apprezzato molto e al quale al di là dei problemi e delle poche fasi di inseguimento Non presenta difetti C'è un però Laddove nero spiccava per originalità di ambientazione e storia Questo close to the sun mi ha lasciato sempre un senso di Già visto Non che questo vada necessariamente ad inficiarne la godibilità in alcun modo Ma le ispirazioni sono spesse chiare Molto chiare Ovviamente Essendo un gioco italiano lo vuoi rilasciare in Italia No In Italia non è mai arrivato Però lo si trova comunque in giro su internet senza grossi problemi E neanche a grosse cifre Quindi anche qua potete andare tranquilli A meno che non lo vogliate digitale Allora a quel punto costa anche meno E questo conclude la nostra puntata patriottica Fatemi sapere se li avevate già giocati o comunque li conoscevate E soprattutto fatemi sapere se ne avete giocato degli altri Perché io sono sempre alla ricerca di titoli indie italiani Soprattutto di qualità Niente Noi ci vediamo alla prossima Ciao a tutti E giocate responsabilmente